Molte difficili, non è molto facile, ancora riguardo a quei tempi di vecchia pubblicità del anni 90 che ci insegnavano che non gli impeccavano, non gli fossero due smalti che avevano vinto di parlare davanti passavano a avere in tasca un pacchetto di mentos e gli superavi tutti a una grande Grazie a tutti 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 Grazie a tutti